La fede è un cammino di libertà. Gesù ci invita a non restare imbrigliati nella schiavitù dei nostri capricci. Ci invita invece a incamminarci verso l'altro, aprendo mente e cuore ai suoi bisogni. E' questa la libertà che ci porta alla felicità. Se scegliamo di rimanere chiusi in noi stessi, allora diventiamo schiavi del peccato e immensamente infelici. Gesù è colui che ci rende liberi. Egli ci fa partecipi di un amore nonostante tutto. Ci mostra cosa significa accettare di essere amati così come siamo. Questo amore è il cuore pulsante della vera libertà. Chiediamo oggi, nella preghiera, di poter sperimentare questo amore liberante di Dio. Se schiavo di qualcosa, ti sei mai sentito veramente libero? Cosa è per te la felicità?